Sara Tommasini ritrovata a Rivini e portata all'ospedale di Pesaro ha chiesto lei aiuto ai militari dell'esercito. Condannato due volte per stupro evade dai domiciliari carabinieri a lavoro per intracciare il 49enne pesarese Federico Marcelli. La chirurgia ortopedica fa un balzo in avanti con l'utilizzo di megaprotesi di ginocchio svolto a Pesaro dal dottor Memè un intervento particolarmente innovativo. Violenza sulle donne oggi affanno un consiglio comunale monotematico al Teatro della Fortuna. Domani a Pesaro una conferenza con i miti dello sport intitolata Non è amore è insieme che si vince. Partiti i lavori per la demolizione dell'ex casello ferroviario in via Nazario Sauro a Fano. Sabato e domenica il sottopasso rimarrà chiuso. Pucina, arte e musica il 26 novembre 3-8 dicembre al Teatro del Trionfo di Cartoceto arriva a Trionfo Gourmet. Tre pranzi concerto con quattro chef della provincia di Pesaro Urbino. Sarà Tosca di Giacomo Pucinia ad inaugurare con due rappresentazioni la stagione lirica del Teatro della Fortuna. Prosegue la tournée marchigiana dello spettacolo accolto dagli applausi del pubblico al suo debutto ad Ascoli Piceno. Presentato l'itinerario dei presepi visitabili nella città di Fano. Da quest'anno potranno partecipare anche i singoli cittadini facendo richiesta all'organizzazione. Gas, luce, efficienza e risparmio. Da stasera su Fano TV il primo approfondimento sulla consulenza innovativa in ambito energetico per accompagnare famiglie e imprese verso un futuro sempre più ecosostenibile. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV, una storia lieto fine. Quella di Sara Tommasini, la 35enne che si era allontanata venerdì scorso dal reparto di psichiatria di Muraglia di Pesaro. Dopo sette giorni di fuga, la donna ha chiesto aiuto ieri pomeriggio alle 18.15 ai militari che presidiavano la stazione di Rimini. La questura locale ha poi avvisato i familiari che l'hanno raggiunta. Il padre Cosimo, dopo la denuncia asporta ai carabinieri, aveva lanciato diversi appelli sui social per ritrovare la figlia che non aveva con sé né i soldi né il cellulare e viste le sue condizioni psicofisiche poteva essere in pericolo di vita. I suoi post erano stati condivisi da migliaia di persone e ieri finalmente è arrivata la notizia tanto attesa. Sara è stata trasportata all'ospedale di Pesaro. È molto provata e dimagrita, ci ha detto il papà, ma si sta facendo aiutare. E caccia Federico Marcelli, il 49enne pesarese, che lo scorso 15 novembre si è strappato il braccialetto elettronico che indossava mentre scontava la custodia cautelare agli arresti domiciliari in attesa della sentenza della Cassazione per una doppia condanna legata ai reati di violenza sessuale e maltrattamenti a danno di due sue ex compagne. Dopo una segnalazione i carabinieri hanno setacciato tra i monti e le strade di campagna che si snodano tra Pianello, Seravalle, Acqua Partita ed intorni di Apecchio e Cagli. Il 49enne pesarese si starebbe muovendo con un piccolo fuoristrada. Inoltre l'ex ristoratore si sarebbe assicurato un piccolo gruzzolo in contanti, diverse centinaia di euro per gestire le spese quotidiane. Si tratta di una fuga vera e propria che sta terrorizzando le due ex compagne di Marcelli. Entrambe infatti temono di ritrovarselo davanti. Diverse le segnalazioni da altre parti d'Italia per via della messa in onda della vicenda nella programma televisivo chi l'ha visto, ma al momento non hanno portato a nulla. Nei giorni scorsi a Pesaro si è svolto un tavolo tecnico con la profettura per coordinare le ricerche. Cambiamo argomento in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Oggi a Fano si è svolto un consiglio comunale monotematico nell'ambito della rassegna di iniziative intitolata Il colore del rispetto c'era per noi Esther Muscò. Si è svolto questa mattina presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano il consiglio monotematico sulla violenza sulle donne anticipato da un minuto di silenzio per le 106 donne vittime di violenza dall'inizio dell'anno. Grazie. Una sala grimita di consiglieri comunali e regionali, associazioni, autorità ma soprattutto di ragazzi con il coinvolgimento delle scuole giunto al nonno anno di collaborazione con il comune di Fano per divulgare la cultura del rispetto. Non sono mancati i momenti di forte emozione durante le performance di giovani che hanno portato in scena sul palco la triste piaga che affligge la società di oggi la violenza sulle donne in tutte le sue manifestazioni. Quella della violenza sulle donne è un fenomeno che sembra non arrestare la piaga sociale che attesta un fallimento in cui ci si ritrova tutti coinvolti. Un femminicidio, una vittima è un fallimento della società non è soltanto il fallimento del nucleo vicino magari alle persone coinvolte e dobbiamo interrogarci. Io penso che il problema vero, i problemi siano due fondamentali da una parte uno strumento per tutelare le donne che sono vittime di violenze e capire quali strumenti possono essere più utili per essere vicini e per tutelarle. E anche questo la casistica e le tragedie ci hanno dimostrato che purtroppo ancora non siamo riusciti in questo intento. L'altro aspetto che forse non voglio dire più importante ma è fondamentale perché la radice è intervenire sul piano culturale perché qui c'è un problema sociale di carattere culturale e dobbiamo cercare di arrivare a tutti. Il rischio di queste cerimonie magari è che ci fermiamo a ragionare tra noi tra le persone che magari hanno una maggior sensibilità ma dobbiamo impegnarci tutti quanti e la sinergia deve essere proprio utile per arrivare a tutti a cominciare dai più piccoli perché è un problema proprio anche di educazione con degli stereotipi con cui anche le ragazze e i ragazzi crescono ma soprattutto va recuperato anche il dialogo, la parola perché viviamo in una società frenetica dove il possesso, l'avere tutto, il tutto subito ci porta poi ad essere in realtà più fragili essere più deboli e che di conseguenza poi provoca quella emozione quella emozionalità che poi degenera e purtroppo i casi sono tanti e non riguarda soltanto uomini, donne, giovani, vecchi poveri, ricchi, acculturati o ignoranti ma riguarda tutti perché tutti cadono in questa tragicità Un lavoro di 365 giorni quello che svolge l'assessorato alle pari opportunità del comune di Fano con il centro pari centro sempre a disposizione della comunità con la promulgazione della cultura del rispetto contro ogni forma di violenza di genere il colore del rispetto è stato intitolato così il fitto cartellone di iniziative dal 25 novembre al 10 dicembre 16 giorni di fila per dire stop alla violenza sulle donne Appuntamenti sono anche frutto di una collaborazione tra istituzioni soggetti del terzo settore associazioni, scuole, istituzioni scolastiche appunto per lavorare con linguaggi diversi e restituzioni diverse in luoghi diversi della città quello che è comunque un'analisi del fenomeno della violenza contro le donne ma anche delle possibili soluzioni e soprattutto un lavoro sulle nuove sulle giovani generazioni è chiaro che questo va accompagnato con un percorso scolastico anche all'interno dell'attività curricolare costante che le iniziative non possono essere sporadiche che le istituzioni ci sono e ci devono essere non solo il 25 novembre ma 365 giorni l'anno e questo è anche un po' l'intento della nascita del pari centro sempre per la giornata contro la violenza sulle donne domani a Pesaro arriveranno alcuni campioni dello sport dello spettacolo e della cultura per presentare la conferenza intitolata Non è amore, è insieme che si vince Anche l'associazione I miti dello sport scende in campo per dire basta la violenza sulle donne e lo fa a Pesaro con una conferenza stampa che cosa avete organizzato? Il 25 di novembre ci sarà appunto una conferenza stampa dal titolo Non è amore, è uniti che si vince che è lo slogan dei miti dello sport e ci saranno delle donne e degli uomini che rappresenteranno appunto questa associazione che porteranno la loro esperienza per lanciare un messaggio di solidarietà e di unione soprattutto l'idea è quella che fare squadra vince sempre E ci saranno tanti campioni? Esatto, ci saranno campioni dello sport Giorgia Masia che è la giocatrice di calcio della nazionale italiana avremo Maria Luisa Garatti che è una maratoneta record e Giovanni Letizia che è il mental coach dei miti dello sport e poi tanti altri che non sveleremo per ottenere la sorpresa E anche la sala verrà lessita a tema? Sì esatto noi faremo la conferenza nella sala rossa di Piazza del Popolo e questa sala sarà proprio un'immersione totale dentro questa tematica importante con delle fotografie della fotografa Elisabetta Fusciani che è appunto una nostra conterranea della provincia di Pesaro e Urbino e poi ci saranno tante scarpe rosse per ricordare appunto le donne vittime di violenza Per l'occasione ci sarà una bottiglia speciale che verrà appunto presentata e la raccolta fondi che verrà effettuata sarà devoluta per un'associazione di donne vittime di violenza Verranno celebrati lunedì prossimo alle ore 15 nella chiesa San Pio X al Poderino di Fano i funerali di Rita Talamelli la 66enne uccisa dal marito Angelo Sfuggiti che lunedì sera ha strangolato la moglie uccidendola per poi tentare il suicidio in un primo momento i familiari avevano pensato di far cremare il corpo della donna ma sarebbe stata necessaria anche l'autorizzazione del marito che si trova ancora ricoverato nel reparto di psichiatria a Muraglia considerata la situazione la salma verrà sepolta al cimitero centrale Questa mattina invece è stato dato l'ultimo saluto a Luca Casagrande il geometra di 45 anni colpito da un malore fulminante mercoledì mentre era alla guida di un furgone aziendale lungo la 14 nei pressi del casello di Cattolica i funerali sono stati celebrati alla chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato tante in questi giorni le persone che hanno scritto messaggi di cordoglio per la scomparsa del 45enne padre di due figli come quello dell'Ital Service Calcio a 5 che proprio sulla pagina Facebook ha scritto Luca è stato un dirigente dell'Ital Service Pesaro stimato e ben voluto da tutti era il cognato della nostra presidente Simona Marinelli persona squisita sempre gentile e altruista lascia un vuoto enorme a Sassonia di Fano sono partiti i lavori di demolizione dell'ex casello ferroviario e della rampa dove a breve verrà realizzato il nuovo sottopasso in via Nazario Sauro per questo motivo è stata predisposta la chiusura del sottopasso dagli ore 20 del 25 novembre alle ore 10 del 26 novembre così da permettere a rete ferroviaria italiana di eseguire l'intervento in sicurezza la prima cosa è per avvertire che sabato e domenica ci sarà un disagio vi creeremo un disagio perché bloccheremo il sottopasso di via Nazario Sauro perché lo blocchiamo? perché sono iniziati i lavori oggi di demolizione dell'ex casellino questo è qualcosa di straordinario e sono molto contento è un altro impegno che ci eravamo presi che stiamo mantenendo verrà demolito il casellino che non è più utilizzato che è in una situazione di degrado fra l'altro è anche brutto da vedersi qui si creerà tutto uno spazio per poi realizzare il sottopasso pedonale ciclabile e questo rientra in questo progetto di grande riqualificazione della Darsena Borghese che abbiamo già fatto col primo stralcio proseguirà con la demolizione il sottopasso e la ripavimentazione fino arrivando al faro che si unisce ovviamente alle altre cose che sono già in programma come l'ex asilo Manfrini che verrà riqualificato nel 2024 dove abbiamo già il progetto è già stanziato due milioni di risorse abbiamo proprio ieri inaugurato anche il Google però questa cosa è veramente importante perché andiamo a chiudere un percorso di riqualificazione di questa area molto bella ma soprattutto lasciatemelo dire dopo questa realizzazione partendo dalla piazza passeggiando per il corso si arriva ad Arsene si arriva fino al porto in sicurezza e soprattutto anche vivendo delle emozioni con questa riqualificazione complessiva quindi lo ricordo sabato e domenica il sottopasso di via Nazario Sauro sarà chiuso per consentire gli interventi più invasivi di demolizione dell'ex casellino scontro frontale tra due veicoli questa mattina alle 10.30 in Viale Piceno a Fano coinvolti una Fiat Doblò guidata da una fanese di 76 anni e un'Opel Corsa condotta da una donna di 58 anni residente a San Costanzo quest'ultima stava percorrendo Viale Piceno contromano in direzione sud quando giunta alla fine del quadrilatero ha impattato frontalmente con il Doblò che proveniva da Via della Pineta il sinistro per fortuna ha procurato solo danni ai mezzi e non lesioni ai loro occupanti cambiamo argomento all'unità operativa di Pesaro è stato effettuato un intervento di chirurgia ortopedica particolarmente innovativo su una paziente di 97 anni vediamo Nell'ambito della chirurgia ortopedica capita di assistere a progressi importanti che rivoluzionano le tecniche e trattamenti impiegati per curare fratture osse e complesse uno di questi casi è stato recentemente eseguito a Pesaro in una paziente anziana di 97 anni che aveva subito una frattura periprotesica del femore distale l'intervento eseguito con una megaprotesi di ginocchio ha fatto la differenza offrendo una soluzione efficace e un rapido recupero per la paziente l'operazione realizzata con estrema cura e precisione dall'equipe guidata dal dottor Luca Memè è riuscita alla perfezione abbiamo optato per fare un trattamento chirurgico di alta incomplessità che è consistito nell'espiantare la protesi precedentemente impiantata e utilizzare una protesi che viene definita megaprotesi perché è molto più grande che solitamente viene impiegata per i casi tumorali l'intervento è andato bene la paziente già nel posto operatorio ha ripreso a muovere il ginocchio e si è stata anche posta in posizione ortostatica per avviarla a deambulazione tutto ciò è stato possibile perché abbiamo coordinato bene le varie unità operative coinvolte dal servizio di anestesia al servizio dell'educazione alle coordinatrici blocco operatorio al personale infermieristico del blocco operatorio e del reparto e mi fa molto piacere che siamo decidi di portare a compimento questa procedura sia in termini diciamo di risultato che ad oggi ribadisco va molto bene sia in termini diciamo di rivalutazione del servizio di ortopedia di Pesaro e di Fano abbiamo impiegato anche un tipo di protesi che non è disponibile al momento del trattamento ma deve essere diciamo così richiesta a un'azienda che la produce e che vengono appunto particolarmente utilizzate in campo diciamo oncologico perché sostituiscono una parte di scheletro piuttosto importante rispetto a una protesi ordinaria e un materiale che rispetto a una protesi ordinaria costa dalle 10 alle 11 volte di più un intervento particolarmente straordinario per l'età della paziente a 97 anni molti chirurghi potrebbero essere resti ad eseguire un'operazione così complessa e invasiva tuttavia grazie all'esperienza e al talento del dottor Memè e del suo team è stato possibile sottoporre la signora all'intervento dimostrando che l'età non deve essere un ostacolo per cercare di migliorare la qualità della vita di una persona è importante perché in letteratura sono descritti altri casi però sicuramente una paziente di 97 anni credo che perlomeno in Italia è unico sia perché i pazienti che arrivano a quell'età sono rari sia perché spesso hanno delle condizioni di comorbidità particolari per cui non vengono trattati chirurgicamente invece in questo caso abbiamo provveduto il trattamento chirurgico perché la paziente in realtà ha delle condizioni fisiche ottimali l'età ormai non è un fattore unico da considerare quando da noi arrivano i pazienti ormai un paziente di 85 86 89 anni vanno considerati tutto sommato anziani ma quello che va valutato è soprattutto la loro capacità autonomia e capacità a svolgere le funzioni della vita quotidiana in attesa dell'accensione della bete in piazza 20 settembre prevista per domenica è stato presentato l'itinerario dei presepi visitabili nella città di Fano anche i singoli cittadini potranno partecipare all'iniziativa sentiamo in occasione del Natale più di Fano parte anche quest'anno l'originale iniziativa delle vie dei presepi dal 25 novembre fino all'epifania sono diverse le natività allestite all'interno della nostra città assessore Etienne quali sono? in questi anni abbiamo realizzato una vera e propria via partendo dal presepe di San Marco il più attrattivo tramite il quale la nostra città fa promozione veramente in tutta Italia tante persone oggi sono 15.000 visitatori arrivano da tutta Italia per visitare quello che non è soltanto un presepe ma è la storia dei diorami ecco a seguito del presepe di San Marco è nata veramente una vera e propria via dei presepi ad oggi oltre a quello è nato il presepe Marinaro realizzato prima nella finestra della casa di Rolando Gasparoli oggi è un stupendo presepe che nasce nella chiesa del porto tutto da visitare racconta le nostre tradizioni marinare ancora è nato il presepe dei mestri carristi nella zona del Pincio proprio dove c'è il mercatino parla di una delle nostre più grandi identità quella del nostro carnevale realizzato in cartapesta dai mestri carristi oggi è un presepe che ha veramente tante figure che racconta anche un ambiente quello del Pincio veramente molto suggestivo della nostra città poi ancora il presepe della trave realizzato dalla comunità di Poderino dall'associazione in questa stupenda chiesetta che è la chiesetta della trave nella quale si è riunita tutta la comunità a realizzare questo bellissimo presepe insomma una vera comunità cittadina che si sta unendo intorno a un progetto che permette di visitare tutta la città a questo quest'anno si aggiunge anche un nuovo progetto quello delle vie dei presepi che comprende i cittadini realizzato in collaborazione con la presidente dell'ente carnevalesca Maria Forra Giammarioli Manuela Palmucci e una serie di cittadini attivi in questo progetto ad aggiungersi quest'anno sono anche i presepi realizzati dai singoli cittadini Manuela Palmucci di che cosa si tratta e come è possibile partecipare il progetto consiste nella valorizzazione di coloro che hanno delle abilità nell'arte presepiale chiunque voglia partecipare può farlo e qualsiasi cittadino che voglia partecipare può inviare una mail alle vie dei presepi Fano chiocciola gmail.com chi partecipa può segnalarcelo ma anche chi voglia partecipare chi voglia visitare basta che punta il QR code quindi vedrà una mappa con gli vari allestimenti chi viene a Fano o chi è di Fano e voglia percorrerlo può percorrere in bici a piedi e quindi girare per la città e andare a vedere quelle che sono le composizioni dei cittadini fanesi Domenica 26 novembre alle ore 18 anche Pesaro accenderà il suo Natale da capitale ultimi preparativi in Piazza del Popolo dove quest'anno lo vedete dalle nostre immagini è stato allestito un maxipalco coperto che resterà a Pesaro per tutto il 2024 si tratta di uno spazio per gli spettacoli che all'occorrenza verrà chiuso per ospitare iniziative culturali tornano a risuonare le voci liriche al Teatro della Fortuna per una stagione che lascerà il segno due le opere in programma si inizia con la Tosca di Giacomo Puccini e si prosegue con Cenerentola di Gioacchino Rossini il primo appuntamento proposto dalla rete lirica delle Marche porta una firma illustre ce ne parla Massimo Foghetti è una delle opere più rappresentate al mondo e costituirà insieme al Cenerentola di Gioacchino Rossini il titolo di spicco della stagione lirica del Teatro della Fortuna parliamo di Tosca di Giacomo Puccini che sarà rappresentata per gli studenti in anteprima alle ore 17 di giovedì 30 novembre e per il pubblico alle ore 20 e 30 di sabato 2 dicembre sul palcoscenico un cast di giovani già avviati sulla strada del successo Tosca sarà il soprano Monica Zanettin Mario Cavaradossi il tenore Vincenzo Costanzo Scarpia il bariteno Federico Longhi la regia è di un nome che non si dimentica quello di Renata Scotto che l'ha curata come ultima sua opera prima di morire all'età di 89 anni un'opera dunque da non perdere che è stata presentata nel foyer del teatro fanese con l'apprezzamento dell'assessora la cultura cora fattori dal direttore della rete lirica delle Marche Alessio Vlad e dal maestro Giovanni Di Stefano che dirigerà l'orchestra filarmonica marchigiana quest'anno è cominciata la rete ad Ascoli sta proseguendo a Fermo e finirà a Fano una programmazione che valorizza anche i giovani deve essere il trampolino per i giovani ovvero deve dare l'occasione a dei cantanti di nuova generazione di misurarsi con dei ruoli impegnativi come per esempio sono i ruoli dell'opera di Puccini e dell'opera di Rossini avendo le migliori condizioni di lavoro per quanto riguarda le prove e soprattutto anche per quanto riguarda un confronto con i direttori di orchestra e registi che li guidano Maestro Giovanni Di Stefano con l'orchestra filarmonica marchigiana protagonisti di questa versione di Tosca una versione maestro che finalmente viene proposta al pubblico nel modo tradizionale non ci sono interpolazioni non ci sono fughe in avanti e quindi anche l'orchestra si adegua a questa impostazione registica Sì abbiamo avuto la fortuna di avere una regista quando è nato questo spettacolo di eccezione Renata Scotto che è stata una grandissima interprete un soprano che ha calcato le scene dei teatri di tutto il mondo è stata la regina del Metropolitan per più di 30 anni che ci ha insegnato tantissimo a tutti una professionalità un rispetto per la musica e abbiamo cercato di lavorare in questo senso con l'orchestra con il coro con tutte le maestranze una bellissima produzione Assessore Fattori la fondazione Teatro della Fortuna è una risorsa per la nostra città e la lirica oltre alla prosa ovviamente costituisce un valore aggiunto vero? Assolutamente sì una risorsa perché come dimostrano i numeri negli anni ha lavorato bene le persone lo hanno capito la città lo ha capito e sono cresciuti tantissimo abbonamenti e partecipazioni e questa risorsa ha lavorato molto bene nel territorio anche con i ragazzi ricordiamo che Tosca andrà in scena il 30 novembre proprio con una rappresentazione pomeridiana dedicata alle scuole cosa ha fatto scontata è un investimento per la fondazione ma un investimento che poi torna e dà i suoi frutti ampiamente all'interno della città e della cultura della città e poi dopo il 2 invece il 2 dicembre la sera per il pubblico più adulto o anche più giovane non è detto sarà possibile ammirare la messa in scena della fondazione Rete Lirica delle Marche altra grande risorsa che abbiamo voluto con tutte le nostre forze aiutati dalla fondazione teatro a Cartoceto il 26 novembre 3 e 8 dicembre si svolgerà la rassegna Trionfo Gurme tre pranzi in concerto con quattro chef della provincia di Pesaurbino nata sulla scia di Cartoceto dopo il festival domenica prende il via la rassegna Trionfo Gurme da chi è organizzata e che cosa prevede? intanto è una rassegna organizzata dal comune di Cartoceto in collaborazione che rientra all'interno dell'iniziativa di valorizzazione dei borghi dell'entroterra regionale in collaborazione ovviamente con il consorzio di tutela della DOP Cartoceto con l'associazione italiana Sommelier Valle Scoprire il raggruppamento di 15 comuni dedicato un po' ai progetti di valorizzazione turistica nonché con gli itinerari della bellezza della provincia di Pesaurbino la valle di Cartoceto dopo il festival continua direi questo viaggio sensoriale immersivo all'interno del territorio di Cartoceto non solo all'interno del borgo ma in generale all'interno di quelli che sono i suoi elementi che contraddistinguono il patrimonio da quello artistico culturale storico da un lato a quello dell'eccellenza agroalimentare dall'altro e appunto trionfo gourmet sono questi straordinari pranzi a quattro mani che verranno preparati all'interno della cornice del settecentesco teatro del trionfo da chef d'eccellenza vini raccontati dall'associazione italiana sommelier per l'appunto come dicevo prima e con dei concerti dedicati tutto in un'atmosfera davvero molto molto intima perché i partecipanti si daranno in platea quindi un numero massimo di circa 50-60 persone per cui davvero sarà un'atmosfera direi unica oltre che magica all'interno della cornice del teatro del trionfo di carta super farà necessario prenotare? assolutamente sì il numero per le prenotazioni è lo 0721 89 84 37 o comunque tutti i riferimenti e i dettagli relativi ai menu le modalità di partecipazione e soprattutto anche a gli chef così come le formazioni musicali che si esibiranno all'interno del teatro del trionfo in questi tre date cioè quelle del 26 di novembre 3 dicembre e 8 dicembre potete anche trovarli sui canali social di Cartocetto Turismo vi ricordo che sempre domenica torna alla Codma di Rosciano di Fano la seconda ed ultima giornata di sapori e aromi d'autunno il salotto del gusto tante iniziative previste tra enogastronomia salute, arte sport e degustazioni di vini da non perdere lo spettacolo appuntamento alle 17.15 con un salame da Guinness ovvero il taglio e la degustazione di un salame artigianale di alta qualità di oltre 2 metri il programma completo lo troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia è in programma per domenica 26 novembre alle ore 18 all'interno della chiesa parocchiale San Giuseppe al Porto a Fano il tradizionale concerto in occasione della patrona dei musicisti l'appuntamento musicale ad ingresso libero è curato dall'orchestra di Fiati Fanun Fortune diretta dal maestro Sauro Nicoletti Vi annuncio che il lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di terre roveresche Antonio Sebastianelli potrete intervenire in diretta dalle ore 19 chiamando allo 0721 86 14 33 ma anche inviando un breve messaggio di testo su whatsapp al 338 49 68 250 Prima di chiudere questa edizione del telegiornale vi ricordo che per quanto riguarda le commedie dialettali il prossimo appuntamento è per domenica 26 novembre alle ore 21 dove trasmetteremo Casa Burrasca l'apparenza in gana della compagnia El Brudet di Fano Tra poco andrà in onda il primo dei quattro approfondimenti dedicati alla consulenza innovativa al mercato energetico all'efficientamento energetico ed alcuni consigli per il risparmio seguirà uno speciale sul convegno organizzato dalla BCC di Fano al Teatro della Fortuna dedicato alla transizione sostenibile delle imprese E' tutto per questa edizione grazie per averci seguito e buona serata